Mio Dio, guarda questa notizia appena uscita a Milano, i tifosi impazziranno per questo. Metti lì che ha questo video se sei un tifoso del cuore rosso-nero. Sono emerse nuove informazioni riguardanti il rinnovo di Raffaele Aou con il Milan, che sembra ormai imminente. Secondo quanto riportato dalla RMC Sport, ci sarebbero state delle complicazioni riguardanti la multa che il giocatore doveva pagare al suo ex club, lo Sporting CP. Nel 2018, il giocatore portoghese aveva deciso di rescindere unilateralmente il contratto con lo Sporting dopo un attacco dei tifosi al campo di allenamento, trasferendosi a Lille a costo zero. Tuttavia, il tribunale arbitrale dello Sport aveva poi condannato Leao a pagare una multa di 16,5 milioni di euro al club portoghese. Lo Sporting aveva anche contattato la FIFA, che aveva stabilito che Lille era solidale e quindi doveva partecipare alla compensazione della multa dovuta. Nonostante la situazione, il giocatore si è poi dimostrato determinante con il Milan e la società ha deciso di rinnovargli il contratto. Tuttavia, la questione della multa doveva essere risolta al più presto, perché gli interessi stavano aumentando, portando il debito a 20,6 milioni di euro. Ma alla fine, è stato trovato un accordo. Leao rinnoverà il suo contratto con il Milan fino al 2028 e avrà un significativo aumento salariale. Il Lille pagherà 19,6 milioni di euro allo Sporting, con il giocatore che contribuirà con un milione di euro. Il Milan si impegnerà a rimborsare immediatamente il Lille fino al 90% dell'importo, ovvero circa 18 milioni di euro, puntando su un possibile guadagno in una futura cessione del giocatore. In sostanza, il Lille dovrà pagare solo 2 milioni di euro di tasca propria e guadagnerà denaro con una futura vendita del giocatore, che sarà molto remunerativa considerando che la sua clausola di rescissione sarà superiore ai 100 milioni di euro. Ora dimmi, sei d'accordo con Pobega? Lascia la tua opinione nei commenti, iscriviti al canale, guarda gli altri video e resta sintonizzato, perché in qualsiasi momento porteremo notizie dal Milan.